Andiamo adesso a vedere altre situazioni che si possono presentare nella somma di vettori. Una situazione molto particolare che in realtà semplifica di molto l'operazione è quando i vettori hanno la medesima direzione, hanno la stessa direzione. Ricordiamo che la direzione di un vettore è la retta sulla quale sta il segmento che individua il vettore. La direzione è diversa dal verso che invece è una delle due parti dove ci si può muovere lungo quella retta individuata dal segmento del vettore. Quindi due vettori che hanno la medesima direzione per semplicità possiamo immaginare chiaramente orizzontale, giusto per disegnarli meglio, ma ripeto è assolutamente una scelta di comodo, le direzioni potrebbero essere qualsiasi, ciò che diciamo adesso vale per naturalmente qualsiasi direzione si vada a prendere. Quindi preso il vettore che indichiamo con v1, un vettore che abbia la stessa direzione potrà avere o non avere lo stesso verso. Abbiamo già detto che vettori con lo stesso verso si dicono concordi, vettori con verso opposto si dicono discordi. Ora andiamo a scegliere il caso di vettori concordi, quindi abbiamo due vettori concordi. Quale sarà la somma vettoriale in questo caso? Beh, la somma vettoriale in questo caso sarà chiaramente un vettore che avrà la stessa direzione, non si capisce perché non debba non avere la stessa direzione, ma facciamo di più stavolta. Possiamo proprio andare a calcolare in modo molto semplice tutto di questo vettore, ovvero sia il verso ma soprattutto anche il modulo, l'intensità di questo vettore. Nel nostro caso abbiamo un vettore v1 di 5 quadretti, un vettore v2 di 3 quadretti, non andiamo a specificare la scala o l'unità di misura, e il vettore somma sarà un vettore che avrà la stessa direzione, quindi quella orizzontale, lo stesso verso, quindi diciamo questo verso destra, e l'intensità che sarà pari alla somma dei quadretti, quindi parleremo di 8 quadretti, eccolo qua, e questo sarà il vettore v1 più v2. Quindi non solo in questo caso andremo a rappresentare il vettore, ma riusciamo di questo vettore somma a determinare tutto. Nel secondo caso, ovvero quando i vettori che hanno la stessa direzione hanno il verso opposto, ok, eccolo qua, il vettore somma, chiaramente il punto di applicazione che prendo è assolutamente indifferente, in questo caso non importa dove i vettori sono applicati, quindi l'importante è che appunto abbiano la stessa direzione, li ho volutamente fatti su rette parallele e non sulla medesima retta, per far vedere che sono tre vettori distinti. Il vettore somma avrà la stessa direzione, quindi si troverà anch'esso sulla retta orizzontale, parallela alle rette direzione dei vettori v1 e v2. Il verso sarà il verso del vettore con modulo maggiore, quindi nel nostro caso il vettore col modulo maggiore, eccolo qua, vero? È il vettore v1, quello più lungo, quindi il verso sarà anche una volta verso destra. e per quanto riguarda il modulo sarà stavolta la differenza dei moduli. E quindi essendo il vettore v1 lungo 5 quadretti e il vettore v2 lungo 3 quadretti, il vettore somma è il vettore somma, non è perché si faccia la differenza è il vettore differenza, il vettore somma, quindi la indico sempre v1 più v2, è il vettore che ha il verso destra, perché è il vettore di modulo maggiore v1, che ha verso verso destra, ed è la differenza dei moduli, due quadretti. Ok? Bene. E quindi eccolo qua. Questa è sicuramente una situazione che vale la pena di vedere come situazione particolare. Andiamo adesso a vedere invece quando dobbiamo sommare più vettori applicati nello stesso punto. Noi abbiamo già visto cosa succede quando i vettori da sommare sono in puntacoda, in vero sistemati puntacoda, la cosa è molto semplice. Non abbiamo visto cosa succede se la somma vettoriale è tra più di due vettori quando i vettori sono invece applicati nello stesso punto. Bene. Si va a sfruttare sostanzialmente la proprietà associativa dell'addizione che, anche se non andiamo assolutamente a verificare, vale anche per la somma vettoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi dobbiamo sommare i tre vettori V1, V2 e V3 che sono rappresentati in questa figura, quindi tutti applicati nello stesso punto, bene, possiamo fare la somma ad esempio dei primi due e questo che è a sua volta un vettore, vero, sommarlo al vettore V3 e i vettori V e V3 chiaramente risulteranno applicati sempre al medesimo punto e quindi su questi due vettori andremo ad operare col metodo del parallelogramma già visto precedentemente. Quindi andiamo a sommare i vettori V1 e V2 a livello sempre grafico costruendo il parallelogramma andiamo a prendere la diagonale e questo appunto è la somma vettoriale del vettore V1 e V2. a questo punto andiamo a costruire andiamo a costruire il parallelogramma diventa leggermente più complicato vero stavolta tra il vettore somma eccolo qua e il vettore V3 e lo faccio in viola il vettore è la somma vettoriale di tutti e tre quindi con la costruzione fatta sempre graficamente si va si arriva se non altro ripeto a costruire il vettore somma anche nel caso di tre vettori terza ed ultima situazione che vale la pena di vedere diciamo che è una situazione che potrebbe capitare ma è una situazione insomma normalmente almeno in fase iniziale nei problemi compare compare meno quando i vettori non sono applicati nello stesso punto ok quindi ad esempio io ho il vettore V1 lo facciamo col caso di due vettori e il vettore V2 e voglio andare a costruirmi la somma vettoriale V1 più V2 come faccio? bene io so come si esegue la somma quando i vettori sono applicati nello stesso punto bene sostanzialmente si va a ridursi nella situazione nota ovvero quella di vettori applicati tutti nello stesso punto entrambi nello stesso punto sfruttando una proprietà geometrica sostanzialmente che è quella che ci porta a costruire vettori equivalenti cioè vuol dire che hanno le medesime caratteristiche dei vettori dati ma con appunto la proprietà di essere applicati nello stesso punto sfruttando quale caratteristica beh il fatto di osservare che due vettori saranno uguali cioè saranno lo stesso vettore rappresenteranno la stessa grandezza vettoriale quando hanno la stessa direzione lo stesso verso e la stessa intensità bene io adesso ho tracciato ovvero ho tracciato le due rette che rappresentano le direzioni dei due vettori v1 e direzione v1 v2 e direzione v2 queste due rette non essendo i vettori aventi la stessa direzione ovvero non essendo parallele le rette chiaramente si andranno ad intersecare in un punto eccolo qua cosa succede adesso beh se noi andiamo a traslare vero a spostare il vettore v1 fino a farlo coincidere con questo punto d'applicazione è lo stesso col vettore v2 noi manterremo la stessa direzione manterremo lo stesso verso e la traslazione cioè questo spostamento proprio immaginate di fisicamente spostare il vettore segmento fino a farlo coincidere mantenendo la stessa lunghezza produrrà appunto lo stesso la stessa intensità quindi li facciamo blu questi due vettori andiamo mantengo 1 2 3 4 5 quadretti 1 2 3 4 5 quadretti e questo è il vettore v2 spostato va bene idem per il vettore v1 qua chiaramente è più difficile mantenere la stessa distanza ci si può aiutare eventualmente o con un compasso la cosa migliore o con un righello ok e mi sforzerò di farlo uguale ripeto la cosa essendo una costruzione grafica sono importanti questi passaggi grafici quindi è importante avere anche chiaramente degli strumenti adeguati per poter fare questi spostamenti qualora l'esercizio richiedesse proprio la costruzione grafica quindi non è da da dimenticare appunto l'importanza di strumenti adeguati quindi righelli e ripeto eventualmente compassi per riportare per riportare distanza a questo punto i miei due vettori sono portati nello stesso punto applicazione posso passare alla costruzione del parallelogramma e con esso alla individuazione della diagonale che sarà ripeto la mia somma vettoriale e con questo caso diciamo possiamo ritenere di aver esaurito le varie situazioni che si possono proporre come come vettori da sommare quindi ecco mi raccomando guardare bene queste situazioni due casi chiamiamoli generali punta coda e metodo del parallelogramma declinati poi eventualmente su altre situazioni da prendere comunque in considerazione da trattare un pochettino in modo particolare grazie grazie Grazie.